bello a tutti ragazzi benvenuti in questo messino video dei gtiger oggi farò vedere la mia collezione di gtiger senza scatola questa è la seconda parte del video dei gtiger con la scatola cominciamo da questi qui abbiamo maschette rider golden eggs biancaneve hang on dublo dragon after banner karate king offroad king's beach robocop 2 star wars aladin batman zorro art red beast sonic 2 socher batman di ritorno autron skid shot wrestling qui poi abbiamo il gioco del pokemon sempre della gtiger lì ci sono anche i quelli non gtiger e ci sono anche quelli in patarocchi e poi abbiamo anche lì dentro per esempio quello lì e quella lì aperto con noi c'è anche un nuovo collaboratore che si chiama 3gamer e che tra poco inizierà aprirà il canale se raggiungiamo 5 like aprirà un canale ok il video può finire qui lasciate like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivate la campanellina e mettete nei commenti se volete un nuovo video di park mong ciao ciao ciao